Buon saluto a tutti quanti, siamo qui su MTGO, stiamo giocando Pioneer, il mio fantastico super bellissimo Abzan Siege Rhino L'ho tenuto questa mano perché ho un paio di accelerini, due terre e onestamente in questo momento sto giocando 25 terre quindi sono abbastanza comunque convinto che riuscirò a pescarla Il trioma di Raugrin ho paura che sia tipo UVR Control o ancora peggio un mazzo con Files of Invention e non è un mazzo ingestibile però non è niente Oh, ok, è un Jeskai Warrior quindi io specio per nero perché comunque adesso vorrei mettere giù una Cariattide oppure in realtà potrei mettere giù il trioma di Raugrin e il trioma di Indata, il trioma di Raugrin è quello dell'avversario e fare direttamente il fatal push sull'avversario io lo faccio subito direttamente giusto per evitare problemi ho sempre paura che mi scenda un Teferi e si metta un po' a giochicchiare con la velocità delle mie instant e un Teferi potrebbe essere un problema in questo momento perché non riuscirai a gestirlo troppo bene sono troppo lento per un Teferi... cosa? sono troppo lento per un Teferi di terzo ma non mi ha fatto un Mardu... wow... stri... riper... riper... e... oh... wow... il nostro avversario sta giocando party? Jeskai party? che figata... ok... ok... è sicuramente molto interessante ma... insomma credo di riuscire a tenerlo abbastanza a bada facilmente inizio subito con la Cariatide perché poi voglio poggiare giù la Corsiera con ancora qualche landa in mano e iniziare a cercare di guadagnarci il più possibile e boh... la Cariatide ne para uno in caso posso fare fatal push sull'altro credo di riuscire a gestire piuttosto bene la sua race cioè finché fa solo race è gestibile è vero che ho due removal però non lo so devo un attimo vedere come si evolve la situazione prima di pensare a fare l'altro fatal push cioè se tipo lui mi butta giù un'altra creatura adesso potrebbe essere un problema quindi quattro man passa... ok... possiamo farcela ahah... ahah... race interessante però non ho fretta perché... questo sembra un mazzo solo di creature e va bene... però... cioè... devo avere un qualcosa... devo avere tipo un combat trick particolare a fare un qualche counter motivo per cui gioca il... il blu... a parte le creature del party blu quindi... diciamo che Avacyn me la trattengo beh niente male come pescata di lande però... dalla cima è sempre meglio perché sfoltiamo quindi ci sta... cioè già adesso potrei tipo provare... ad appoggiare giù Avacyn nella sua hand bisogna un attimo vedere cosa ci gioca lui... quattro carte in mano insomma... ah... ok... ok... preso completamente alla sprovvista ho un po' cambiato la side... come potete vedere... e... boh... questo mi sembra un mazzo molto creaturoso quindi voglio un attimo sperimentare i Settled Wreckage poi in caso ci riproveremo più avanti modificando un po' meglio la sideata allora... questo matchup non è proprio un matchup particolarmente positivo contro Agro quando parte lui quindi boh... vediamo... insomma... ho il muretto da fare a turno 2 il peschino da 3 da fare a turno 3 e anche un fottio di lande in mano che insomma... è un po' il contrario di prima però prima l'ho tenuta perché... cazzo però parte sempre con questo... prima l'ho tenuta perché comunque sapevo che con 25 lande bene o male le altre lande le pesco anche solo appoggiando giù una corsiera... so che poi il mazzo lo sfoltisco questa è una situazione che onestamente finora con questo mazzo non mi era mai capitata e... però insomma ho quel pescatra in mano... quindi... cioè... secondo me qualcosa ci arriva... ci teniamo comunque la cariatide in difesa... perché ci sta... eh... prendiamo schiaffi... 3 schiaffi... 4 schiaffi... più altri 3 schiaffi... comunque sono tanti però... c'è tipo... basta vedere un fatal push... e vediamo una landa basta vedere un fatal push tra quelle che giriamo col peschino e già la race l'abbiamo... l'abbiamo aggiornata e poi voglio dire... se ci fosse tipo un rinoceronte che arriva... e poi insomma le vite le recuperiamo... mettiamo un parante... porca merda... porca merda... porca merda... porca merda... eh... devo... devo un attimo cercare di rarrentargli la race... e credo che l'invala sia la cosa più importante da allevare... perché tanto il Reflector Mage sulla cariatide non può farli... prendiamo un sacco di schiaffi... ma tantissimi schiaffi in sto momento... però va bene... finché era cariati da X-Proof... ah però... importante come race... devo dire... importantissima come race... devo dire... ehm... neanche un rinoceronte dalla cima ci salva... perché può farlo diventare un codardo e non ci blocca più... DAI! MA DAI! MA PERCHE? ma no... no... vabbè... facciamo una terza e magari sediamo un po' meglio... abbiamo visto solo creature finora... quindi penso che un bel meno due meno due... possa essere importante... ci mettiamo dentro anche tipo qualche spot removal un po' più... più giusta... e secondo me i cosi di Netroy possiamo toglierli... perché voglio dire... tra Noxious Grasp e il mito di Netroy... in realtà abbiamo... due carte che fanno la stessa cosa... solo che uno costa un money in meno... quindi... boh... vabbè... eh... due renoceronti... due lande... due removal... e un accelerino... va benissimo... magari potevo partire con qualcosa di stappato... ma in realtà è normale da questo mazzo fare terra tappata... vai... quindi... va bene... ci sta... oh... terra due danni... ok... ok... questo è tipo il drop a 1 per eccellenza dei mazzi party... quindi ci sta... è una buona partenza anche la sua... noi la gestiamo... tranquillamente... comunque insomma mettiamo un bel muretto... purtroppo piuttosto importante... quindi va bene... ok... lo mettiamo... e... cerchiamo di stargli un po' dietro alla race... lui buttava giù creature su creature su creature... ma noi le togliamo... quelle che non le togliamo... gliele pariamo... e poi... Rinoceronte batte un po' tutto... quindi... già entra e fa un'elica... tipo... no... no... non voglio fare il rinoceronte adesso... faccio la terra tappata... e mi tengo libero per una barra due removal... perché se tipo lui mi fa... Reflector Mage adesso... io non ho il mana... per fargli il Fatal Push sopra... a questo punto il Fatal Push... potrei tenermelo per un Reflector Mage... se invece arrivo 5 mana... lui mi rimbalza e manda il rinoceronte... mi rimangono fermi in mano... va bene... però... ho il mana... per triggerare la rivolta del Fatal Push... e... potenzialmente... togliergli il Reflector Mage... insomma... mi pare una giocata abbastanza importante... oh... ok... un altro... interessantissimo bersaglio per il Fatal Push... che però facciamo... ma spacchiamo quello bianco... e poi... peschiamo... va bene... l'anda extra... ci sta... rinoceronte... elica... e... mana extra... con cui proteggerci... ah... wow... wow... non mi sarei mai aspettato di vederla giocare questa carta... però finora siamo arrivati al G3... e questa è tipo la prima non creatura che vediamo giocare... quindi... boh... vabbè... io ho quei due danni e li prendo anche abbastanza... tranquillamente... che voglio dire... ho un altro rinoceronte in mano... non muoio di due danni... ma... vabbè... rinoceronte... sto pensando se giocare la landa... ma sì... perché comunque poi vorrei poter fare anche tipo due spell insieme... e ci spostare... come cosa... ancora... mmm... che palle... cioè se mi rimaneva giù un rinoceronte... era tipo... finita la partita... molto probabilmente... perché rinoceronte è un po' difficile da tirare giù... io... boh... non sono ancora convinto di tirare quel fatal push... quindi... me lo tengo lì... mmm... vabbè... vabbè... cosa... cosa ci vogliamo fare... tengo un po' di mano libero... non so se riscarci due sopra... o se fare... eh... questo mette pegline... ed è un ottimo target per la removal... mette pegline... mette tre pegline... però... boh... vabbè... non lo so... non lo so... non lo so... ehm... perché tanto il full party... sì... ma lo posso ancora gestire... quindi... penso che ci pescherò sopra... perché ho bisogno di appoggiarci sopra... qualche tipo di minaccia... e quindi... quindi peschiamo... sicuro lo lascio lì e pesco... e pesco... vediamo... vediamo cosa peschiamo... porca... mmm... eh... mi sa che dobbiamo farci... un altro po' di schiaffi... perché... perché ho bisogno veramente di pescare... ecco... ho bisogno di pescare qualcosa del genere... è proprio quello di cui avevo bisogno... ok... eh... ottima come removal... mmm... ma... poco utile come creatura... quindi... boh... io penso che la tirerò tipo... adesso... se mi attacca con il 3-3... perché sono curioso di vedere... se ha tipo... qualche negate... qualche protezione di sorta... la creatura così... la sacrifico volentieri... soprattutto perché si mi attacca con più pezzi... io gli tiro il cavaliere... me lo countera benissimo... e gli tiro il cycle... dovrà che Ginkhi sposta... che come piano insomma... mi sembra accettabile... ok... quello lo pompa... attacca da solo... vabbè... ehm... vabbè... tiriamo il cavaliere... tiriamo il cavaliere... comunque appoggiare un pezzo in più... con un lifelink... ci può stare... ok... risolve... quindi non ha protezioni... non ha counter... non ha cose... va bene... va benissimo... tutta roba per prendere tempo... ma poi vorrei anche tipo... vedere qualcosa... ho ancora un po' troppe carte in mano... per fare il castello... ma va bene... vediamo cosa ci racconta il nostro amico... che poi tra l'altro... è il Tribal Tom... MTG... eh... Fom... penso... può essere tipo un altro youtuber... che fa solo cose... solo cose legate al... ai tribali... boh... non lo so... dal nome potrebbe anche sembrare... dal nome e dal mazzo... soprattutto potrebbe sembrare... Ah, questo è diventato imbloccabile e ok, questi danni iniziano a non volerli più prendere così tanto, quindi lo uccidiamo Vediamo come ci racconta Non attacca, sembra quasi che stia aspettando di pescare qualcosa Cicla, va bene Oh, sembra un attacco di massa, ma i 3-3 attaccheranno? No, e allora io ne paro due, guadagno due vite e quindi sostanzialmente prendo un danno Quindi posso andare avanti così anche senza usare il Settled Wreckage Corsiera, non è la minaccia a cui stavo pensando, ma è sicuramente un qualcosa che voglio vedere Anche perché insomma mette un po' di pressione e iniziano ad essere due paranti che uccidono le bestie Quindi ci sta come cosa Ok, volevo giocare, pagare un mana rosso per Vediamo Va bene Ok, ok Diventa un 4-2 Va bene La mia corsiera diventa una codarda che quindi non può bloccare i guerrieri Va bene Non ho capito perché abbia pompato il coso, ma Attacca con i 3-3 Attacca con tutto Signori Settled Wreckage Gli diamo un po' di lande, ma facciamo un po' di pulizia del bordo Che secondo me è importante come cosa Butta dentro quelle terre Ok Fine turno Io ti tolgo anche quello Che poteva tradarmi un pezzo E meniamo Oh, quella in cima è interessante Remuvalo, oppure pompo qualcosa Oppure gli tolgo un pezzo E' interessante Non andiamo a vite Facciamo un parante Zero carte Posso perdere una sola vita per pescarmi il talismano Che è importante Vittoria Vittoria Buon salve a tutti quanti Siamo ancora su MTGO Abzan Rhyno Stiamo facendo un po' di prove Giusto per vedere le ultime modifiche che abbiamo fatto Una spada Anzi una lancia con un mono nero E' già saltato per il live game Probabilmente Non lo so In ogni caso Noi ci stiamo preparando per fare un bel terra accelerino Terra corsiera Anzi corsiera Terra e un sacco di vite E quindi va bene Rosso nero Ok Va bene Abbiamo mostrato Oh mi ha tolto Xpuf Oh Bella come giocata Anche questa mi piace come giocata Anche questa mi piace come giocata Certo Fatal Push Su Una Cariatide Cioè non voglio dire che mi metta in difficoltà Posso farne un'altra E se ti faccio spiegare un altro Fatal Push A me va bene Simproader Io lo amo E' una carta bellissima Che quando è uscita Ombre Suinistra Ho detto Mio dio E' fantastico Devo averlo Devo provarlo Però si c'è il problema Che tipo Se ti serve per fare vantaggio E giri lande Non fa vantaggio Perché farsi zero danni E' zero danni Doppio Simproader E' importante Ma anche questa cosa Del potenziale Di fargli Doppia corsiera Secondo me Non scherza Simproader Tra le altre cose Ha anche minacciare Quindi vuol dire Che devo fare doppio blocco Per parare il primo Però glielo tolgo E poi tipo Il secondo Ok Il secondo L'avrei tolto Col talismano Ma il terzo Non so veramente Cosa inventarmi E ok Vabbè È diventato un 3-4 Quindi Parare non ha senso E ora che ci penso Non ha senso Neanche sfacciare Perché quel talismano Lì in cima Io ce lo voglio Ce lo voglio E quindi Quindi continuano A prendere schiaffi Ok Questa posso Sfacciarla via E Però Meglio fare la removal Uh Grande Quel mana nero in più Ha fatto piacere E quella removal in cima Fa ancora più piacere È il caso Di non fare la corsiera Ma fare una removal Adesso Perché Tracing prodder Che mi fanno Potenzialmente Tanti schiaffi Sono tanti schiaffi Quindi è meglio Iniziare tipo A ucciderli Penso che inizierò Col cavaliere Così poi al massimo Posso metterlo giù Per cercare di fare Un doppio blocco Cariati De più cavaliere Su uno dei sim Prodder Senza la lancia Quindi ok Poi mi rimane Un fatal push E poi mi rimane Il talismano Abzan Per levarmi Dalle palle Uno degli altri E che cos'è Questa cosa Che cos'è Questa cosa Un drop A 8 Così Che rischiavano Di arrivarmi Direttamente In muso Ma no Ti lo faccio prendere Che tanto so Che non lo casta mai Va bene Va bene E questo mi diventa Un 4-3 Minacciare Che va bene E poi si piglia Un talismano In faccia E tanto io Pesco fatal push Ho il talismano E Vediamo Perché continui A sprecare Fatal push Sulle mie cariate Cioè Capisco Che ti fanno Il doppio blocco Ma Te lo avrei fatto Comunque Va bene Non ho fatto La corsiera La seconda corsiera Perché voglio fare Liliana Liliana Spompa Il prover Ed essendo che È tipo L'unica creatura Che gli è rimasta giù In questo momento Secondo me È importante Perché anche se Ci mette la lancia Sopra Comunque Spreca mana E deve concentrarsi Su Liliana E quindi Io prendo tempo Poi Alla peggio Se lui Mi fa qualcosa Io ho un altro Ho zanciarlo In cima Ho il fatal push In mano E insomma Quello Quello va Il cimitero Che non voglio Che inizi a pingarmi A farmi danni Che mi sembrano Un po' Particolarmente Tanti Ah ok Dreadbord È importante E va bene Così Adesso Spompato Posso farci Il talismano Sopra E vaffanculo Oppure No Iniziamo con la corsiera E due vite Così Tappata O stappata Tappata O stappata Tappata Questo vada Benissimo Perché comunque Non ho bisogno Di fare doppia removal Ma mi fa fare il fatal push Avevo sacrificato qualcosa Avevo perso qualcosa Ma che cazzo Mi sono confuso da qualche parte Mi sono sbagliato Speriamo che sta girata Non sia Rakdos Cosa sta succedendo Uno si distrae un attimo Per due secondi E cosa Vabbè Rakdos può andare al cimitero Più che altro Perché potrebbe Che tipo Castarlo Basta che mi faccia Un mezzo danno E Eh Tipo Tipo Vabbè Ho un abzanciarlo Con scritto sopra Il tuo nome Anche seppure il coso Che continua a farmi danni È importante Nissa No ok Nissa allora mi risolve Un po' la faccenda Guadagno due vite Faccio il cavaliere Che è un eventuale Blocco in più Per il tizio Con Con minacciare Ed esilio lo spawn Perché altrimenti Stone non ne esco più Potenzialmente avrei anche La terra animabile Con lifeline Ma preferisco buttare giù Il cavaliere E poi una volta giocata Giù Nissa È partita Perché il Nissa Mi fa 3-3 E o inizia a prendersi 3-3 Con cautela Rapidi Oppure Trada Il simproder E perde praticamente Tutto Quindi Ho un fatal push In mano Ok Non si era capito Era proprio Telefonatissima Questa Questa giocata Non si era capito Del fatal push Va bene Io avrei tolto Una corsiera In realtà O forse avrei fatto Questo trick In combat Anche se Vabbè Si capiva Insomma Si capiva Però Hai due demoni 8-8 Agosto 8 In mano E non puoi risolvere Nissa In questo momento Quindi tipo Hai un turno di vita Probabilmente Io adesso Allora Potrei animare L'animabile E farla diventare Già un 3-3 Di suo Ma metti che lui Trada Io perdo La possibilità Di guadagnare vita Dopo Quindi animo Una foresta E poi Il prossimo turno Animerò L'animabile E pagherò Mana Per Per farla diventare Un 5-6 Con Lifelink Che mi pare Un buon piano Beh anche concedere È un buon piano Comunque Insomma Boh I 3 simproder Di fila Mi avevano un po' Preoccupato Se devo essere onesto E soprattutto Il fatto che non abbia Mai visto Un mazzo Del genere Così E tutto quanto Quindi Boh Io butto dentro La roba Che mi fa Guadagnare vite E Boh Quindi Boh Secondo me Non lo so È così un po' Da provare Perché non so bene Neanche io Cosa Cosa possa succedere In una partita Del genere Perché tipo Che questa La mollighiamo E che questa Vabbè Sì Oh Ok 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 Nuova partita E La Teniamo Voglio dire Non c'è l'accelerino Ma c'è il doppio scarto E Vabbè Insomma Mi fico E l'ander Non dovrebbe essere Abbastanza difficile Appoggiare un rhino Abbastanza protetto E poi E poi magari Soren Mi piacciono Ma non era morto Quel mazzo Ma che palle Vabbè Iniziamo Iniziamo a scartargli Ah C'è C'è Già Tutti i pezzi In mano E Gli togliamo Il ciclino Almeno Che palle Che palle E quindi Un po' Dalla mia mano Inizia Un po' Più inutile In questo caso Vabbè Posso pescare Posso scartargli qualcosa Ma già lo spacca Permanente So cosa farmene E Rhino Rhino e Sol Aiuto a un certo punto Ci mettono sicuramente Una certa race Però Però Che palle C'è tipo Lui a turno 2 Eh sì Con L'arboreal grazer A turno 2 Fa sempre Vabbè Tiro lo stesso Il ruo a pensieri Nella Eh Sapevo che andava a finire così Era nell'eventualità Che avesse pescato Quella carta utile In più Extra Prima Ma Anche perché speravo In realtà Di vedere la terza landa Tipo tirare il peschino Avere qualche landa in più E poi iniziare a fare cose Poteva Poteva anche essere Fattibile Come cosa Ma 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 niente Speravo che Senza il bridge Questo mazzo fosse morto Ma A quanto pare Cioè ci sono 3 drop A 5 Nel mazzo E ne ho 2 in mano Però Ho tipo 2 lande E 0 accelerini Mannaggia Li pescetti Eeeh Eh Vabbè Lui si fa le sue cose Senza neanche tipo Fregarsene Quello che faccio io Infatti credo Mi metterò Mi metterò a giocare Al cellulare Che tanto Messaggiamo un pochettino Qualcuno Vediamo Se hanno qualcosa di interessante Da raccontarmi Avevo fatto l'accelerino Poi tiriamo il peschino Ma Telefono per cazzeggiare E' sempre qui pronto Oh Una nuova carta Wow E' sempre bello Vedere quanto le nuove carte Vanno a finire Nei combo Vabbè Eh Se non altro Ho i 3 mana Per pescare Io uso anche il mana rosso Per fingere Di essere giungo Però adesso Fingerò Non fingo più Potrei essere quadricolor Però Vabbè Eeeh Allora Abbiamo abbastanza lande In realtà Al prossimo turno Per fare nissa Che è importante E soprattutto Potremmo fare Poi Nissa Raino Stapparci un'altra terra E insomma Sono Sono nove danni Per Mana nero Ok Sono un po' Confuso Ma allo stesso tempo Curioso Eh Io più o meno Un piano Credo di averlo Un piano Che avrei voluto Metere in atto Tipo 16 turni fa Ma Ok Mi rendo conto Che Non sia sempre Così Fattibile Eeeh Intanto Ho anche dovuto Scartare una terra Ma che tanto Comunque mi è entrata Tappata E io adesso Voglio fare Il boschetto Stappato Cinque mano A nissa Stappo Probabilmente O la foresta O il Overgrown Tomb Per attaccare Immagino In realtà Che lui pari Perché a questo punto La roba del grisler Non ce ne fa più Un cazzo Eeeh Però 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 poi Se io sopravvivo Stappo Posso fare Eeeh In realtà Posso fare sia Rino Che Che avas Sine a fine turno Quindi forse In realtà Potrei Fare semplicemente Una Una Oh Oh ok 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 Ehm Ok Quindi sta tipo Cercando di pescarsi Il mazzo Con cose del genere Quindi Boh A un certo punto Ehm Il coso Il cinghiale Questo qua Dice che Non possono essere pagati I costi Sacrificando le carte Però Il lotus Field Fa sacrificare Per un Enter the water Field Che non è un costo Quindi Niente Ho sperato Ero lì E dire Oh e magari Ho qualcosa Di utile Da fare Sì Va bene Continua Vabbè Io il mio piano Ce l'ho E il problema È lui Ehm Boh Mi varrebbe quasi Da dire Che da un certo Punto di vista Potrei sentire La mancanza Di lotus Bridge Perché almeno In quanto Permanente Era un qualcosa In cui magari In G2 Avrei potuto Anche interagire Sto dicendo Una cazzata Ovviamente Però per dire Cioè Io gli scarti Ho anche provato A farli Adesso Sono qui Che guardo Guardo Stronzo Praticamente E quindi Va bene Va bene Continuiamo A guardare E praticamente Devo continuare A dare gli ok E basta Solo Ok a questo Ok a quello Bla 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 Va bene Magia risolvono Un po' Perché non ho il blu Un po' Perché sono Tapped out Questa è una cosa Di amity gioco Mi fa sclerare Tantissimo Cioè Ok 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 B Cioè Questa è un po' Questa è una cosa Cioè Questa è un po' Giorgiare Questa è un po' Nont Cosa? Va bene, ok, non so cosa sia successo, piano agro, buttiamo degli entro tutte le creature che possono attaccare dalla side e cerchiamo di diventare ancora più aggressivi di quello che siamo prima, di quello che eravamo prima, e boh si questi qua me le vedo abbastanza un po' inutili e magari un paio di cariatri possiamo anche levarle, sto pensando un attimo a questo perché a un certo punto potrebbe tipo scendere Ugin, quindi boh, vabbè, e forse in realtà Cinghiale essendo leggendario ne bastano, vabbè, abbiamo le terre, abbiamo gli accelerini, abbiamo il peschino, abbiamo le dita incrociate nella speranza di pescare velocemente qualcosa con cui fare abbastanza race, quindi ok, il nostro avversario intanto decide cosa fare della sua vita e il tempo passa, perché probabilmente avete notato anche voi che questa partita sta andando avanti molto per le lunghe, il nostro avversario ci mette più o meno tanto tempo per fare la sua scombata e qui il tempo è abbastanza tiranno, quindi la cosa potrebbe ritornarci abbastanza utile, vabbè, non abbiamo ancora pescato nulla di impattante, però abbiamo quel castello lì che in tempi disperati ci fa anche un po' dire, boh, vabbè, lo facciamo, ok, vai con le tue macinate, implacabile questo ragazzo che ci scombra ogni volta effettivamente con l'Hotus Field di terzo, sembra e comunque, anche se in realtà credo che prima l'abbia fatto di secondo, sembra che ha fatto l'arboreal brazier, 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 non ci sono lande, e questo è importante, il satiro può andare a vuoto, allora se fosse stata una landa e avesse comunque potuto fare mana avrei tolto la stregoneria a costo 5, però in questo caso, secondo me è proprio il caso di approfittarmi, se mi missa all'endrop, c'è già adesso se mi missa all'endrop, uh, ha missato, perfetto, perfetto, siamo andato un sacco di roba al cimitero e anche un dig che è importante, noi ora peschiamo cerchiamo di appoggiare qualcosa che sia importante per la giocata, eh sì, devo iniziare a fare un po' di race, quindi sì, quindi sì, cioè c'è poco da fare, andiamo giù di quello e ok, ha mancato l'endrop? Sì, sì, mi piace, come cosa, mi piace, in realtà la mano che aveva su lui era tutta bella, io sto pescando un po' troppe lande, ma va bene, perché comunque io adesso attacco per 2, guadagno 4 vite, no, lo dicevo, in realtà le sue pescate sono buone, però vista la situazione che gli era, togli di cerca landa, secondo me è stata la giocata migliore, l'altra scelta sarebbe stata la stregoneria a 5, che pesca 3, stappa 2, eh, c'è no, soprattutto se puoi farlo così presto, e questa sua giocata è molto interessante, perché in questo momento io non riesco a tirarlo giù, né combattendo né col fatal push, però ho il cinghialozzo, ovviamente ho la monopianura base già in mano, e va bene, però se lui mi fa un doppio blocco, non è stato avido, va bene, cinghialozzo che comunque ci cerca una foresta, mi sfoltisce un po' il mazzo, e poi quello sarà un po' difficile da parare, però questo turno non è andato bene, io adesso continuo ad appoggiare pezzi, perché voglio svuotarmi un pochettino la mano, per iniziare a pescare con il castello, però il fatto che gli sia rimasto giù il visir non va bene, perché adesso può arrivare a 6 mana, fare il pour over the page, bla bla bla, no, no, non mi piace, anche perché è la mano piena, quindi adesso la landa la vede di sicuro, eh, esattamente, esattamente, e, bah, no, non voglio dire che potrebbe già scombare, perché è rimasto un po' troppo indietro di land drop, però non riesco a fare su questa race così convincente, soprattutto se continuo a pescare terre, tac, 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 intanto meniamo, va bene, ci sta, ci sta, sono 4 carte in mano, però io i 4 mana ce li ho, e sapete cosa vi dico, io, se non, se sono ancora vivo alla fine del suo turno, io pesco di castello, vabbè, vabbè, il blu con tutte queste carte che fanno vantaggio, cioè, come si fanno? Io non riesco a capire come si fa a dire che solo un colore possa fare vantaggio, cioè il vantaggio dovrebbe essere una cosa che o lo fanno tutti o non lo fa nessuno, e siccome ovviamente salterà fuori a un certo punto un qualcosa con cui fare vantaggio, che lo facciano tutti, vabbè, mi sono svuotato un pochettino la mano per farmi meno danno, va bene, importante, importante anche questa come pescata, sono contento di averlo fatto, cazzarola, e vediamo, vediamo, allora innanzitutto corsiera, p1, raino in cima, grande, animiamo e picchiamo per tanto, perché se para perde del pezzo, se non para, prende un sacco di schiaffi, e io sono molto contento di questa cosa, vediamo la sua mano, oh, che disastro, che disastro, che disastro, che disastro, che disastro, eh, boh, boh, adesso, boh, c'è a 4, quindi deve scombare per forza in questo turno, e ci sta anche, no, non ci sta più, ha topdeccato il palcoscenico, cioè ci stava che perdesse, perché è rimasto indietro di tell and drop, e ci stava, no, ha topdeccato il palcoscenico, vabbè, ha tutti i pezzi per fare un sacco di porcate, io, mentre schiaccio qui, ok, al computer, mi metto a messaggiare. Grazie a tutti. 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 così e o lo uccido prima io menandolo o muore lui perché non può scombare e gli finisce il tempo quindi vabbè insomma passiamo questi ultimi 5 minuti in allegria e compagnia terra tappata poi guarderemo un paio di turni vabbè però questo mazzo lo avrebbe fatto in ogni caso l'ho tenuto solo per quello perché tanto comunque il mazzo vabbè potevamo a pescare di buon scartino ma no facciamo una corsiera poi iniziamo a guadagnare vite con un'altra corsiera tra l'altro mi sono appena reso conto che non ho il doppio nero che potrebbe essere un problema con lo scorrere della partita siamo al secondo turno attenzione lui è arrivato sotto il limite di 5 minuti ovviamente scomba di secondo perché perché devono fare carte che fanno scombare di secondo penso che guadagnerà un sacco di vita il prossimo turno vabbè va bene cioè non è proprio non è proprio la pescata che volevo vedere ma insomma in realtà non so neanche bene che tipo di pescata vorrei vedere vorrei solo lasciargli fare uh quella è bella vorrei solo lasciargli fare la sua cazzo di combo che tanto poi comunque cioè muore di tempo quindi sto solo cercando di boh portare avanti la partita finché l'uno inizia a scombare e finché non si renderà conto che a metà metà combo sarà finito il tempo e io avrò vinto per default perché finirà così cioè ve lo posso assicurare cioè o tipo tira fuori scimmia scimmia lotto così rito oscuro oppure oppure no e questo potrebbe essere importante come come top back fare lo scarto o fare la removal guarda wow ok posso fare entrambi guadagno vite e quello zio lì muore sì sì no no glielo spacco niente scarto lo scarto può aspettare scarto posso farglielo anche dopo quel coso lì però deve morire subito e così tra l'altro uno può pararmelo l'altro l'altro lo prende e quindi già inizia un pochettino a fare il race altro ruga pensieri in cima spero che tu abbia tutta la combo in mano perché guardatela in culo oh quello è un problema quello non è un problema perché mi aspettavo che avesse rifatto il tizio o il tizio che gli stappa la lambda cioè hai visto che ho lo scartino in cima al mazzo hai visto che ho lo scartino in mano porca puttana quello mi sembra un pezzo importante oh oh quello mi sembra un pezzo importante da tenere vediamo cosa allora il coso che tappa e stappa io me lo devo dal cazzo e contando che i 7 mana per pescarsi mezzo mazzo può già tirarlo gli lascio i due dig through time che in realtà vuol dire che gli do la possibilità di fare più 4 che non è proprio il top però tra le carte che aveva in mano erano le minacce meno minacciose dal mio punto di vista e immetti che comunque me li faccia adesso e vado a cercarsi pezzi io ho un altro scartino in cima al mazzo quindi boh c'è secondo me ce la posso fare nel senso ce la posso fare posso ancora in qualche modo gestirla e arginarla anche perché lui ha 2 minuti e 20 cioè non può farcela fisicamente ah però l'importante è questa cosa cioè io l'ho lasciato con due dig through time in mano ho avuto una pescata più dig through time e si è c'è doppio di questo coso praticamente 20.000 mana adesso farà un altro dig ok e in mano gli è rimasto il lotto il campo di lotto perché è una carta in mano l'abbiamo già visto il campo di lotto vediamo cosa mi topdecca perché c'è un certo punto mi sembra un po' boh cioè va bene che vai a cercartene tra va bene che vai a cercartene tra 7 però mi sembra anche un po' sculo a un certo punto perché voglio dire boh forse non conosco bene le statistiche non lo so prendete in mano quello rigiocolo cioè praticamente questo è un problema che la wizard dovrebbe imparare a gestirlo cioè è inutile che dici sì ma metto una carta forte per standard se poi tipo crei altri 18 formati in cui ci sono dentro carce in cui tutte queste carte forti una per blocco possono ritrovarsi insieme che cazzo anche quella pescato c'è un ciclo infinito praticamente ho finito il tempo ok ancora qui su mtgo nuova partita un po' lenta con un bel po' di terre tappate ma anche il nostro avversario va tappato quindi mi piace come cosa abbiamo con le due removal e ok un po' troppe terre però va bene ok potenzialmente abbiamo l'animabile che ci fa da creatura in più ancora un po' più di troppe terre ma se non altro abbiamo tutti mana che ci servono e soprattutto possiamo già stare aperti per fatal push il nostro avversario sembra sia un bianco nero midrange che mi pare anche importante come cosa spero non sia un mazzo con doom foretold perché beh a parte che se ce lo gioca adesso in realtà lo riusciamo comunque a gestire e invece è bianco nero angeli quindi immagino abbia tipo un sottotesto di life gain lo uccidiamo così buttiamo giù anche il cavaliere che mi pare una cosa molto importante da fare ma perché vabbè ho comunque un'altra removal in mano quindi va bene insomma va bene deve guadagnare vita per spammare angeli va bene ok questa la tiriamo un attimo così che da capire cosa farci un altro angelo un altro angelo è un guadagna 5 non voglio che vada a cercarsi altri pezzi anche gli altri sono fastidiosi sono importanti ma non voglio che vada a cercarsi altri pezzi il coso glielo togliamo subito dalle balle perché poi se guadagna vite è un problema è difficile da gestire e quindi va bene ce lo togliamo subito dalle balle anche se in realtà mi rendo conto che comunque può tirare l'angelo fare il guadagna 5 e fare un altro angelo perché vabbè vabbè ho fatto il push ho scritto il nome di quell'angelo però oh ok ok no allora è meglio uccidere l'angelo che caga gli angeli dell'altro 4-4 boh ci troverò tipo una soluzione prima o poi in qualche modo ecco magari non avessi tutte queste terre in mano mi sentirei un pelo più sicuro mettiamola in questo modo però va bene una landa giocato quindi vabbè insomma almeno non sembra che non stia pescando importante facciamo terra tappata e lo tiriamo o no no meglio di no meglio di no meglio di no ok quello lo vedo veramente problematico quello lo vedo veramente problematico come cosa non è pescata vabbè iniziamo a guardarci un pochettino dalla cima del mazzo non sia mai che sfollitiamo un pochettino ecco tipo così che guadagniamo un po' di vite insomma va bene tutto possiamo anche parare sì in realtà non otteniamo molto anche se pariamo vito se lui attiva l'abilità ci fa comunque tipo 9 danni eh ok ne l'abbiamo tirato al momento giusto l'abbiamo fatto bene perché probabilmente va quello in mano e ha pescato adesso vito quindi boh in realtà a livello di campo non sarebbe cambiato molto però se lo facciamo stappare adesso con quella in mano eh insomma eh abbiamo un'altra terra in cima come se non avessimo abbastanza terre in in questo mazzo in questa mano soprattutto quindi vabbè almeno abbiamo una vita in più pariamo vito e se li da lifelink son cazzi cazzi e se non gli da lifelink son cazzi in ogni caso perché vuol dire che avrà qualcos'altro da fare quindi vabbè insomma non è proprio non è proprio non siamo proprio in una bella situazione aver pescato tutte quelle lande e non non ha aiutato che cazzo è ooooh ma ti prego e vabbè ma non non possiamo uscirne cioè va bene giocare con tutto ma boh trovarsi tribale angeli e vabbè c'era anche quello con con i simprober prima boh io butto dentro più o meno tutte le removal che ho e quindi a un certo punto dovrò pulirgli il campo in qualche modo avasin avasin è figa ma no e penso che anche i planeswalker possono andare c'è sorin in realtà mi piace e c'è un po' da dire che c'è una scelta da fare tra questo sorin e quell'altro sorin e quell'altro sorin a un certo punto mette anche pezzi non rianima ma vabbè insomma c'è molto da rianimare sto mazzo e quello mette pezzi fa più uno life link a tutto anche nel mio turno va bene va bene abbiamo uno due tre quattro spacchini su sette carte e tre lande quindi per me è un keep iniziamo col trioma tappato che tanto comunque abbiamo visto che nei primi turni sia io che lui non siamo molto molto veloci ma vaffanculo appena detto vabbè terra tappata Terra scraiata Mi seccherebbe sprecare il fatal push Su quel cosino lì Seccherebbe sprecarlo Eh ok, già questo mi rende un po' più tranquillo Però effettivamente Se avessimo fatto il fatal push prima Anche se lo saccava in risposta Cioè noi non perdevamo nulla E lui Cioè se adesso mi fa un'altra creatura Può saccarlo in risposta A rendere indistruttibile qualcosa Quindi no, vabbè Devo uccidoglielo per forza Anche perché sennò vado un po' troppo in paranoia con sta cosa E quindi va bene Allora abbiamo tutti gli spacchini necessari Per gestire la cosa Quindi Nel dubbio che lui appoggi qualcosa Io intanto attacco Potrei anche rimanere stappato in realtà Però voglio iniziare un pochettino A impostare un po' di race Anche perché non so bene cosa possa appoggiarmi lui Quindi Quindi va bene Ah Cioè quindi è tipo Bianco nero Angeli life gain Questo proprio lo togliamo subito dalle balle Perché Cioè potevo tenerlo a bada Con l'animabile Ma a detta Quindi me lo uccideva E quindi ce lo leviamo dalle balle Perché tanto comunque gli altri angeli Li gestisco in ogni caso Questo Questa è una Una bella carta tribale Che è proprio fatta per questo mazzo Entra questo 2 1-4 Che è difficile buttare giù Ogni volta che entra un angelo Fa guadagnare vite 4 vite Quindi quell'altra merda Quell'altra 3 mitico Triggera E va bene Tocca spaccarglielo Ok Va bene Benissimo Nuova partita Ben tornati qui Stiamo giocando Abzanraino Abbiamo Abbiamo una mano Che mi piace Un po' lenta In realtà Faremo due turni di terra tappata Poi corsiera Che fa da muretto E da Vite Poi si andrà giù Un rhino Che inizierà A darci un po' dentro Ma non ero altro Ok Questi primi due schiaffi Li prendiamo Ma va bene Oh Oh Ok Questi primi due schiaffi Non li prendiamo più Perché abbiamo trovato Il parante Per eccellenza E che già questo è molto importante Quindi vediamo cosa ci mette Il nostro avversario Ok Ok Se non altro Boh In caso di rankle È un ottimo target Da sacrificio Ma c'era anche già lo scheletro Che andava bene Quindi Boh C'è un qualche pump Nel mono nero Ok Questa è una partita La best of one Perché avevo Stavo Stavo Volevo provare Sperimentare un pochettino Vedere come era questa Ok Mi piace questa cosa Mi piace questa cosa Che abbiamo un'altra corsiera in cima Quindi abbiamo Un bel piccolo esercito Di muretti Da mettere in gioco Che ci fanno guadagnare Un bel po' di vite Quindi va bene Il nostro rhino può aspettare Abbiamo un rhino in mano Una removal Tre terre Che sono un po' tante Ma insomma con la corsiera Soprattutto con questo mazzo Penso possano fare la differenza Il nostro avversario Non ha giocato l'anda E non ha appaccato Cosa Cosa molto importante Quindi Via con la Con la seconda corsiera Iniziamo a fare Un po' di vite Che non fa l'unione E boh Sì Possiamo che inizierà Ad attaccare Tanto comunque A livello di forza Non può tirarmi giù La corsiera Potrebbe tipo Sacrificare un pezzo E poi fare Tipo Fata il push Però in realtà Ho già una corsiera giù Ho rinoceronte in mano Oh Ok Ok Sì ma è interessante Con questa come giocata Tanto comunque La corsiera Non ha bravo a volgere Quindi Ci sta La pescatola Terza landa Vediamo cosa ci scende Sette carte in mano E quella roba Pensieri in cima Probabilmente Lo tireremo Cos'è? Il coccodrillo Con lifelink Che entra E mette Due segnalini Meno uno Meno uno Su una creatura Vabbè Anche bello Quel push In cima Allora In mano ce l'abbiamo Per fare tutte le cose Quindi Iniziamo A vedergli la mano Ma cosa Va bene Non ho abbastanza Ramall Per tutta questa roba Quindi È questo Che si Spompa E si spompa Credo che Andrò Andrò a levargli Quello Anche se in realtà L'altra opzione Era il demon Però Però va bene Ma possiamo che giocare La sciocca in stappata Perché tanto guadagniamo vite Allora Rhino scende giù Perché Rhino È più forte Dell'altro Poi Se ci scende il demone Ci facciamo la removal Se ci scende il 5-5 volante Possiamo comunque fare la removal sopra Ma soprattutto possiamo farla dopo che ci ha fatto pescare Perché è un 5-5 volante a posto 3 Che però ha il downside Che ogni suo mantenimento Ci fa pescare una carta Quindi insomma possiamo Abbiamo anche Ok Ok Ah era Ah Aspetta C'era un demone 5-5 E l'altra era un araldo Che ci fa Che può conferirlo Farlo diventare Un Dagli più 3-3 a volare E ogni mantenimento Uh bello Bello con Rhino in cima Uh Allora L'araldo era bellissimo Mi ricordo che lo giocavo in standard Il mono nero agro Comunque in realtà Abbiamo un sacco di Di giocate molto belle da fare Potremmo tipo saccarci qualcosa Per il demone Tipo magari la cariatide Così da far triggerare Il fatal push Che è un'opzione Ma in realtà Potremmo anche direttamente Farci la removal Al sopra In realtà E iniziare A picchiare Con il rinoceronte Il rinoceronte È più forte Di Ammit E scheletro Del 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 manicomio Che cos'è Messi insieme Quindi comunque Parando Non può farci niente Poi È vero Che gli resta Quel coso Lassopra Però C'è un altro Rhino in cima Abbiamo il fatal push E quindi Boh Secondo me Secondo me Abbiamo ancora una buona race Davanti Belli questi demoni C'è sono un po' Allora i demoni di Teros Sono quelli che mi piacciono di più Conferisce Quindi diventa un 7-6 volante Lifelink Che è importante Rivadagna un po' di vite Però C'è Io ho un rhino Che scende Si fa sentire Ok Neliana Va bene Allora Abbiamo Abbiamo abbastanza Manna Per fare un sacco Di porcate Che è una cosa Che io particolarmente Apprezzo Rino numero 2 E iniziamo a menare Vai Schiaffi 8 schiaffi Quindi a livello di race Noi Gli facciamo Più danni Rispetto a quelli Che lui guadagna Che comunque Secondo me È una cosa Da venere d'occhio Vabbè Prendi schiaffi Prendi schiaffi Ok Conosciamo solo una carta in mano di 3 Però va bene Insomma Ok Importante Importante Ok Adesso non conosciamo più le carte che ha in mano Io pesco Perdo due vite La bevo da 15 Però mi prendo in mano quella Liliana Mi sfoltisco un po' il mazzo Va bene Questo posso giocarlo giù O posso ciclarlo Oh Questo penso proprio che lo ciclerò Penso proprio che lo ciclerò Allora 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 Innanzitutto Liliana Che gli toglie un pezzo Perché A Gli tolgo un pezzo B Faccio un pochettino venire in mente L'idea All'avversario Che se non mi attacca Liliana Rischia di perdere pezzi E poi meniamo con tutto perché tanto la race dà la nostra e qualsiasi cosa muoia mi triggerà il fatal pusher ciao Rhino ti riprenderò in mano dopo di Liliana se sopravvive e se non sopravvive meglio così push su lifelink così almeno lo lasciamo a poco posso ciclare e prendere il fatal push però così non pesco quindi tanto comunque mi fa pescare quindi va bene cioè allora l'araldo il 3-3 gli fa un danno il demone 5-5 mi fa pescare una carta extra così ho in mano una removal lui picchia per 7 va bene ma non mi uccide e io invece sì tipo poi anche Liliana da gestire come cosa che non è proprio cioè non è inutile ma non è neanche una cosa che si può lasciare lì perché ad esempio se me la lascia con almeno 2 io mi riprendo in mano non si girano dal cimitero tipo quindi Liliana deve essere abbastanza risolta in questo momento in questa combat deve farci tipo una removal un qualche tipo di removal o usare una delle due creature per attaccarci ma in questo caso insomma io lo picchio nel senso io gli volo sopra faccio un sacco di danni perché comunque sono 8 danni fermo restando comunque che anche se mi attacca a me mi manda 10 io resto a 10 quindi non muoio posso anche tipo fare castello pesco 2 vado a 8 va bene e comunque un pochettino ho spoltito il mazzo quindi ci sta sono tutte cose che secondo me sono sono tutte molto importanti ho un po' impostato mi piace questo mazzo perché più o meno mi dà il tempo di riuscire a impostare tutte queste varie strategie perché comunque in quanto midrange è un mazzo che intrinsecamente ha una sua lentezza però il fatto che con la corsiera guadagno vite rinoceronte guadagno vite ho le due terre che mi danno vite e quella che mi fa pescare e la corsiera che mi fa soltire cioè insomma è lento ma riesco a girarci abbastanza indietro su questa sua lentezza intrinseca ha un sacco di removal soprattutto per permanenti valide eventuali e non solo tipo creaturo planeswalker che secondo me è tanta roba vabbè poi sono successe un sacco di cose mi ha attaccato ho lasciato l'illiana e quindi ho praticamente 16 modi differenti adesso per farlo morire in realtà adesso mi pesco la mia bella cariatide quella importante saranno due vite extra dopo oppure posso semplicemente sfoltirmi il mazzo così ah bello quel sogno mi piace mi piace ci sono tanti quei modi in cui posso ucciderlo adesso cioè non capisco perché non l'abbia ancora concesso ma va bene spompiamo il demone perché ormai vabbè insomma ha capito esatto quindi va bene e questa era l'ultima ok teriamo un po' di conclusioni vi è piaciuto questo video mi raccomando fatemelo sapere sotto una descrizione del video è un po' lungo ma le partite sono così io ho già velocizzato un pochettino la cosa e spero insomma di avervi intrattenuto quel tanto che basta quando lo facciamo il prossimo continuiamo insieme con questo mazzo vorrei tipo fare non lo so qualcosa tipo un mese per mazzo magari poi con qualche video addizionale un po' su certe carte particolari sulle side date cose così non lo so è una cosa un format un po' nuovo per me però su cui vorrei che ci si potesse lavorare ora quante volte abbiamo giocato Avacyn oggi già esatto quindi secondo me potremmo un pochettino dire che Avacyn che ho già diminuito di coppie prima erano due adesso è una potremmo anche un po' andare a toglierla poi secondariamente non lo so come modificare il mazzo modificare il mazzo cambiarlo un pochettino tantino non lo so ci sono tante versioni potenzialmente probabili e sicuramente magari in qualcosa che mi sto dimenticando quindi mi raccomando fatemi sapere se vi è piaciuto questo video se e quanto continuare cosa cambiare cosa modificare cosa provare fatemi sapere ci vediamo domani con il prossimo video grazie a tutti